Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Quest'oggi andiamo in Valle del Biois con il Consorzio Promo Falcade e Dolomiti, la Presidente Antonella Schiena. Ciao Antonella, benvenuta nei nostri studi. Ciao Claudio, grazie dell'invito. Allora, anzitutto, cos'è il Consorzio Promo Falcade, Associazione Promo Falcade e Dolomiti? Come possiamo definirlo? È una consortile, è una consortile perché è una via di mezzo fra un consorzio e un'azienda per poter avere un più ampio raggio di azione. È nata nel 2020, quindi proprio appena finito il primo lockdown del Covid, siamo partiti. Il primo luglio il nostro ufficio era operativo. Il nostro ufficio è situato presso il municipio di Falcade, che ci ha concesso la sede. E si chiama Promo Falcade e Dolomiti, ma non si occupa solamente del territorio di Falcade, ma dell'intera Valle del Biois, quindi anche Canale d'Agordo, Vallada, Sant'Omaso e Cincinighe. Abbiamo deciso di chiamarlo Promo Falcade e Dolomiti perché Falcade è già un marchio, e già conosciuto a livello anche internazionale, mentre se lo chiamavamo Valle del Biois sarebbe stato più difficilmente identificabile e anche storpiato perché lo chiamano in mille modi, da Valle del Bois. Certo, chiaro, assolutamente. E di che cosa vi occupate? Cosa fa il consorzio, la consortile Promo Falcade e Dolomiti e chi sono i soci o gli associati, diciamo così, a tale sodalizio? Allora, Promo Falcade è nato con lo scopo di promuovere il territorio, perché sul Valle del Biois c'erano già delle entità, come le Proloco per dire, che si occupavano di organizzare e supportare il turista sul territorio. Mancava la promozione in Italia all'estero, quindi noi siamo andati proprio per fare quello. Poi ovviamente le cose si sommano, adesso facciamo tantissime altre cose, ma il focus resta sempre la promozione. E' nato dalla volontà di quattro soci, uno è l'associazione albergatori, ristoratori e rifugi della Valle del Biois, la società di impianti di Falcade, il Col Margherita, e le due scuole sci, la scuola sci Falcade e la scuola sci Equip. Appunto questi quattro soci si sono uniti, si sono andati dal notaio, hanno costituito uno statuto e si sono fondati. Da lì siamo partiti per cercare delle persone che volessero credere nel nostro progetto e aggregarsi per poter appunto promuovere dentro la valle e da lì abbiamo iniziato ad acquisire dei clienti, come appunto tutte le strutture ricettive, ma anche i negozi, i noleggi di sci, le guide, anche gli artigiani, tutte le persone che sono interessate a promuovere lo sviluppo turistico della valle. E quindi complessivamente adesso quanti associati avete in tutti questi soggetti che c'è appena elencato? Diciamo che è un buonissimo numero perché copre penso il 90% del comparto commerciale della Valle del Biois. E' difficile quantificarli perché veramente continuano a crescere anche quando ci sono nuove attività. Noi ci promuoviamo con loro, esponiamo il nostro progetto e spesso appunto ci sono questi nuovi entrati. Certo, quindi vi coordinate, se ho capito bene, con la Proloco, con l'associazione Albergatori, per anche promuovere tutte le manifestazioni che vengono organizzate sul territorio, giusto Antonella? Come? Attraverso internet, partecipazione a fiere, ci puoi elencare un po' la vostra attività? E' molto ampio lo spettro di azioni. Proprio in questo momento siamo all'estero per fare delle fiere, andiamo a incontrare i tour operator oppure gli sci club nei paesi, in questo momento, nei paesi dell'Est come la Polonia e la Repubblica Ceca. Poi faremo un altro passaggio in autunno invece in Italia, faremo un road show partendo da Firenze, Roma, anche Bari, Napoli e appunto andremo a trovare tutte queste persone che sono interessate a visitare la montagna e a promuovere il nostro territorio con delle offerte mirate, perché andremo sia come strutture ricettive, ma anche come scuole sci, come noleggi, come impianti di risalita, ma anche per promuovere comunque l'estate. Adesso fra poco saremo a Castelbrando per un workshop dedicato al sito UNESCO. Questo si fa appunto la promozione, poi sul territorio invece ci coordiniamo appunto con le Proloco, in Valle del Biosi ne abbiamo tre, c'è quella di Caviola, c'è quella di Canale e di Vallada e anche recentemente abbiamo fatto un incontro anche con tutte le altre associazioni del territorio per mettere giù un calendario estivo che è veramente molto corposo degli eventi e per fare in modo che un evento non si sormonti all'altro. Certo, quindi il coordinamento fra voi. A proposito di coordinamento con la Fondazione DMO Dolomiti, vi coordinate se sì a livello provinciale, perché logicamente la DMO agisce a livello provinciale. Com'è il vostro rapporto con la DMO e che cosa fate se fate qualcosa insieme? C'è comunque un scambio costante di informazioni, partecipiamo all'assemblea della DMO, siamo presenti sul loro portale che è nato da poco dopo il restyling anche del brand e quindi le informazioni che noi carichiamo sul nostro sito poi vengono pescate e vengono trasmesse anche nel sito provinciale. Quindi c'è anche una condivisione di contenuti. Ecco Antonella, il tempo qui è limitato, ma possiamo dare una panoramica, visto che siamo alle porte della stagione estiva, delle principali manifestazioni che Promo Falcade organizza o che promuovete tramite l'organizzazione magari di altri enti? Sì, grazie alla collaborazione con il Comune di Falcade. Forse l'evento maggiore di questa estate è il ritiro del Venezia Calcio, che avverrà nel mese di luglio. Adesso siamo anche in attesa di conoscere i risultati perché il Venezia... Potrebbe andare in Serie A. Esatto. Ce l'auguriamo. Deve disputare la finale, quindi noi diamo un grosso in bocca al lupo perché vada in Serie A. Comunque abbiamo già delle campionesse che verranno a Falcade perché le ragazze della Reiera sono campionesse d'Italia e saranno anche loro ospiti a settembre. E' il quinto anno che ospitiamo sia la squadra femminile che la squadra maschile. E' il turismo sportivo, insomma, no? Perché queste due formazioni di richiamo nazionale attirano un gran numero di tifosi. Ma ancora prima, il primo appuntamento della stagione estiva, non manca poi molto, al Bondelansuda, giusto Antonella? Esatto. Il 15 e il 16 apriamo la stagione con questo evento che è arrivato alla sesta edizione. Il Bondelansuda è una festa dedicata alla primavera in montagna. Sarà open air sulla bellissima piana di Falcade e sarà veramente una riscoperta dello stare all'aria aperta e di quello che la primavera offre di buono. Ma poi durante l'estate ci sono tantissimi altri eventi. Anche quest'anno collaboriamo con l'Eco Museo della Valle del Biois, una bellissima realtà che è nata recentemente e che offre delle visite sui siti di interesse della Valle del Biois con le persone del posto che raccontano qual è la storia. Ci sono degli appuntamenti settimanali, ogni giorno ci sarà qualcosa per il turista o anche per il valligiano che voglia scoprire il territorio. E quest'anno ci sono anche delle novità. C'è la riapertura della Zipline a San Tommaso dopo qualche anno di chiusura. Avremo una collaborazione con delle guide che faranno del canyoning in Valle di San Lucano. Poi ci saranno delle visite guidate sia all'agriturismo Piccola Vaita di Sappada per far vedere come si fa il formaggio ma anche a Canale d'Agordo con le caprette di Mirko Zasso oppure con gli apicoltori per scoprire il mondo delle api. Quindi anche gli eventi, insomma, non possiamo aspettarci che il turista dell'estate ami soltanto farle passeggiate ma anche eventi che possano completare diciamo così quella che è la giornata. Ecco, un accenno sul bondo della Suda che apre un po' il calendario e di fatto quella che è la stagione. Un modo anche per anticipare le presenze anche in vista dell'apertura degli impianti di salita, Antonella. Sì, esatto. È stato creato proprio per poter aprire la stagione ma anche per portare gente in un periodo che comunque è ancora di bassa stagione. Adesso, a giugno, non sono ancora tantissime le strutture ricettive aperte però in occasione appunto del bondo della Suda ci saranno queste riaperture e anche i ristoranti della valle saranno disponibili per proporre un menù dedicato al tema delle erbe spontanee. Quindi un'apertura relativamente presa rispetto ai canoni della stagione estiva e una chiusura dove si parla sempre più di destagionalizzazione, di allungare le stagioni. L'estate a Falcadi in Valle del Biois fino a quando sarà, se possiamo definire una data? Sicuramente tutto settembre. Quest'anno avremo anche diversi eventi. Iniziamo con il primo weekend di settembre in cui ci sarà un raduno di ram, sono delle auto americane e insieme ad uno street food. La settimana dopo ci sarà un campionato mondiale di pesto e poi si continua ancora a settembre con Sentes Monteghiera che ormai è una festa diventata famosissima che chiude la stagione degli Alpeggi. Quest'anno sarà il 27, 28, 29 di settembre ma anche a ottobre faremo un evento insieme a Veneto Segreto per far conoscere le bellezze del nostro territorio in autunno con anche i colori del foliage e questa sarà la prima settimana di ottobre. Quindi la stagione si prolunga fino a ottobre e poi se è bel tempo potrebbe andare avanti ancora. Eh certo, Antonella abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione e ti ringraziamo moltissimo quindi auguriamo un buon lavoro a te. Ecco, per vedere tutti gli eventi che ci hai accennato magari anche più nel dettaglio c'è un sito internet di riferimento o come possiamo vedere le proposte di Promo Falcade? Sì, il sito di Promo Falcade è falcadedolomiti.it e c'è una pagina dedicata a tutti gli eventi viene costantemente aggiornato e lì potete trovare tutto quello che si può fare in Valle del Beoice. Allora, grazie Antonella Schiena. Grazie a te Claudio. E a voi tutti l'appuntamento rinnovato alla settimana prossima per un altro numero di Dolomiti Turismo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.